Sai, è sempre fantastico parlare con te. Sì? Sì. Insomma, con quante persone puoi parlare di queste cose? Con nessuna, direi. Che c'è? Sei l'unico mio nuovo amico da quando è morto Peter. Oltre a Obi, giusto? Con lui è diverso. Sì, diverso com'è. Non lo so, tu e io siamo... Noi siamo uguali. Nelle cose importanti, vero? In tutti gli altri universi Gwen Stacy si è innamorato di Spider-Man. E in tutti gli altri universi non va mai a finire bene. Beh, c'è una prima volta per tutto. E noi... E noi... Grazie a tutti.